Comune di Trento, gli assessori del Pia T.T., Stanchina e U.S. pronti a rimettere le deleghe per senso di responsabilità nei confronti della maggioranza e del sindaco. Un azzeramento della giunta potrebbe ridare slancio all'amministrazione. Politica, la Lega su tutte le furie con la pagina Facebook Trentino Ottava Provincia del Veneto. Bisesti spiega che sono fake news che devono essere bloccate da quei trentini consapevoli di come stanno le cose. Grave incidente sulla gardesana, Pietra Murata all'altezza del ristorante Daino, un bambino di 10 anni travolto da un'auto, pronto intervento e il piccolo viene trasferito con elicottero a Santa Chiara. Due principi d'incendio in centro città Trento, uno in una corte di un palazzo di via Carapina e l'altro in piazza Cesare Battisti, su un terrazzo. Falso l'allarme invece alla scuola di Mezzo Lombardo, che viene comunque evacuata. Ennesimo camion in panne dentro la galleria di Martignano, bloccata la viabilità nel tunnel in direzione Pergine, con deviazione sulla vecchia strada. A Trento invece un tir si incastra nella rotonda tra via Lorenzoni e via Veneto. Grazie. Grazie.